Il tempo è essenziale. Il tempo è l'elemento fondamentale dell'interpretazione. Non si può cominciare senza di me. Io avvio l'orologio. Ma al contrario dell'orologio, a volte la mia seconda mano si ferma. Il che vuol dire che il tempo si ferma. La realtà è che è solo quando decido nuovamente di alzare quella mano che al tempo viene permesso di continuare marciando il suo esatto, allegro passo. La mia seconda mano è un'esatto. La mia seconda mano è un'esatto. Grazie per la visione!